Eccoci qua, passeggiatina vicino al rifugio Aquileia, facciamo qualche ripresa con la Sony Allora, qui c'è un giretto da fare, crodo da lago, itinerario del Ciappello, il rifugio città di fiume, grotta di Sant'Antonio Ne abbiamo un pochino, sfortunatamente siamo quasi a ora di pranzo, quindi ci faremo una brevissima passeggiata Magari un voletto con il drone, visto che abbiamo il drone qui in zaino e gustiamoci un po' questo fantastico paesaggio Mi sembra che tu abbia dei grossi problemi con l'equilibrio Ammetto che la sensazione è quella di cadere dentro all'acqua Vediamo l'agilità di Katia sul ghiaccio Se cadi ti manda papirissima Com'è? Pensi di uscire da questa situazione? Non lo so Una volta superato il problema ghiaccio Possiamo andare avanti Arrampicandoci Per trovare un posto al sole magari Dove poter anche Far volare il drone E per testare le attività Di questa macchinetta In automatico Facciamo anche qualche prova spostandoci Dalla luce All'ombra Oddio aspetta che abbiamo Katia sulla vetta Prima di fare Questo test luce e ombra Dobbiamo fare una ripresa Al cerbiatto Sulla vetta Mamma mia Mamma mia Com'è agile Mamma mia Grazie a tutti No, I don't know Tipologia di luce 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 Ok, conclusioni di questa telecamerina Sembra veramente affidabile Stiamo continuando a lavorare in automatico Quindi nessuna impostazione particolare Si comporta bene sia alla luce che al buio Consigliata, cacchio, consigliatissima Vediamo di proseguire con i nostri prossimi test naturalistici Adoro, è fantastico passeggiare qua Sentire gli uccellini Vedere Dei locali, degli animali locali Che passeggiano dietro di te Bell'acquisto Bella passeggiata E andiamo a Mangiare Dobbiamo ancora ordinare Ce ne devono portare Spero solo che abbiano fretta di cacciarci fuori dal ristorante Visto che sono le due e un quarto Ciao